E ciao a tutti ragazzi, io sono Eletro16 e oggi siamo nella serie degli SCP Nello scorso episodio avevo visto l'SCP965, cioè il volto alla finestra Intanto mangio, perché sennò stramuoio di fame Allora, sì, mi sono portato il risma di carta, l'SCP001 Però non lo andremo ad usare in questo episodio Me lo porto, me lo metto appresso nell'inventario E nel prossimo episodio andremo a vedere l'SCP010 Allora ragazzi, l'SCP di oggi è un SCP che si trova da queste parti Eh, sì, il volto alla finestra comunque è stato un bel SCP Cioè aveva solo quella barriera che lo proteggeva Però è molto carino Era anche uno che volevo vedere da molto tempo E oggi andiamo a vedere un nuovo SCP come sempre E io vorrei vedere anche quell'SCP che si sta generando Che si vede, che dovrebbe essere qua Qua, qua, qua non si vede però c'è tipo Tutta una cosa C'è tutta una cosa Ecco, là si vede una guardia tipo Tipo così È una guardia Ragazzi, c'è una cosa, c'è un SCP Keter Pericolosissimamente Pericoloso Ma nel frattempo questa è la cella di oggi È molto molto profonda Quindi ci buttiamo Passiamo a una caverna E ciao Merruzzo Ah, qua c'è uno smeraldo Che lo prendo Perché potrebbe essere Ah, ok Ah, questa è la cella Dalla Ma 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 what? Sento, sento suoni Però non vengono da là Ma pericolosi qua Una cosa C'è, qua, qua c'è tutto uno spazio E la cella tutta di qua Vabbè Sto spaccando cosa Allora, qua noto che ci sono Meralli E io li prendo Perché Perché Ma che c'è Ma che c'è What? no 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 come sprecare il tempo scusate se non parlo oh oh mio dio no ma chi è che ha messo qualcosa ma un pazzoide ha messo qualcosa boh boh raga entriamo nella cella chi se ne frega c'è una forza secondo me è un safe perchè keter non credo possa essere però può essere un keter anche ok dai devo chiudere ecco perfetto non so ah ho intravisto è safe tipo ok ok oh mio dio ce l'abbiamo fatta gli smeraldi tutti nell'inventario che dopo li vado a mettere nella cesta allora il scp di oggi è safe ed è il 387 che si lo conosco è uno molto cioè non è famosissimo però lo conosce un bel po' di gente si chiama lego vivente ok praticamente sono dei mattoncini lego che se vengono maneggiati da mani umane si animano ok non riesco a chiudere la porta ok ah si sono dei mattoncini lego cos'era ho sentito un tipo di un peluche ok allora il layout della cella è quello del vaso dei mostri il 019 solo i blocchi sono un po' diversi e qua c'è la gabbia però io ho sentito un suono tipo di un peluche però non c'è un peluche non c'è niente nella gabbia c'è solo una cesta si raga allora ci sono molte cose da dire a questo scp di qua anche che tipo si tratta di una scatola di lego che praticamente tutto può rigenerare lego poi anche come ho già detto sono dei lego che se vengono maneggiati da mani umane si animano ok questa è la figata dell'scp ci sono anche tante cose da dire però non c'ho sbatti di dirle solo questo fa e sono dei lego che se vengono maneggiati da mani umane si animano allora la cella è questa c'è una cesta con dei tavolini e che dite ragazzi apriamo la cesta? lo so che apriamo la cesta ok e ci sono dei mattoncini lego ah si si chiamano scp387 3,8,7 si e perchè ah ah ci sono due mattoncini si chiamano scp387 allora maneggiarli non fanno niente buttarli nemmeno boh questi invece cosa? oh mio dio ma che che ha? ma ho spawnato un omino ma che 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 è piccolissimo ma è piccolissimo ma no è uscito dov'è? eccolo cioè guardate è piccolissimo cioè dov'è? ma è piccolissimo ma è anche cioè guardate non è grande nemmeno nemmeno quanto uno di questi ma che carino no ti do un pugno scappa no non è cattivo ma che carino se ti butto i lego fai qualcosa se ti butto i lego no raga non fa niente è carino questi è niente raga ehm lì dov'è? è qui? ma ma è sparito ma what? se n'è andato? l'ho perso ah no eccolo ciao ciao se io l'ammazzo anche se credo sia impossibile non credo di norma dovrebbe morire dai dai ma più che carino ok muore fa le manine e niente raga non fa niente non fa niente sta a fare poi non fa niente cioè guardatelo è carino è o non è la cosa cioè ma poi quanto è piccolo ok capisco che è un lego però cioè così piccolo non credo qua ci sono dei sbagli dov'è? ah ecco ciao ciao ora ti porto al laboratorio coso che poi no non fa niente beh raga non fa niente non fa niente si non fa niente dov'è? ma adesso dov'è? ah eccolo perché ti apro vai ok ora spawniamo il fratello e provo ad ammazzare uno di loro no niente zero sbatti la vita è bella ma poi perché è così piccolo? cioè non potevano farlo un po' più grande non lo so vabbè raga eeeh niente ci vediamo al laboratorio cosa possiamo fare questo? vabbè niente no mazzo dopo lo portiamo al laboratorio eeeh niente raga possiamo chiudere qua il video quindi io comunque ragazzi direi che per questo video è tutto lasciate tanti mi piace iscrivetevi non capisco la sicure levi content door però vabbè scp387 è stato un piacere conoscerti eeeh e ora saliamo risaliamo 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 eeeh vorrei farvi vedere la buca di 13 no no che dico 23 vabbè sono scemo forte vabbè raga andiamo risaliamo sopra e adesso vi faccio vedere il buco quindi quindi ok quindi ci vediamo fra poco ok eccoci qua ragazzi allora sono riuscito a uscire e adesso vi faccio vedere la cosa delle robe delle cose delle robe stra mega fighe che vedremo nel prossimo episodio qua intanto c'è una cella di un scp però a noi non è che ci interessa chissà quanto qua ce ne dovrebbe essere qui da qualche vabbè ecco qua guardate guardate qua era questo di quello che vi volevo parlare una cella prima di tutto esterna secondo sicurezza molto alta le c'è anche il cartello scp 23 17 ho fatto anche troppi spoiler raga scp 23 17 lo conosco lo vedremo vi spiegherò tutta la sua cosa la storia l'origine di questo affare credo anche si ecco è talmente grande la cella che è uscita infatti questa è la cella guardate guardate quanto è grosso è la cosa più grossa di sto mondo ma vabbè queste non sono cose che mi interessano vabbè ho fatto vedere raga finiamo così avete già capito quale sarà l'scp della prossima volta o almeno così si dice quindi io comunque ragazzi direi che per questo video intanto questi legoli andrò dopo a mettere in casa e niente raga per il prossimo episodio vedremo scp 27 qua c'è una gabbia no no e raga si quella è la mia montagna è baggata male ma non è che ci possa fare chissà quanti problemi vabbè raga quindi io comunque ragazzi direi che per questo video è tutto lasciate tanti bei mi piace iscrivetevi evitiamo di cadere nei buchi perché qua c'è la pietra non lo so quindi da me elettro 16 è è tutto ciao perché c'è un buco nel vuoto quanti buchi ci sono troppi ma noi non è che ce ne è fatto un ca quindi ragazzi da me ce ne è anche una cella qui da queste parti eh vabbè vabbè vedremo tutto nel prossimo episodio qui da elettro 16 è tutto ciao alla prossima episodio e basta fare ste outro che le faccio troppe volte quindi ciao definitivo ciao addio per sempre